Vedono due persone incappucciate a girarsi nell'oliveto e danno l'allarme ai genitori. Così un gruppo di bambini ha sventato un furto ieri sera tra albergo e Cigiano, nel comune di Civitella in Valdichiana. È successo poco dopo le 22. Sarebbero state due le persone incappucciate che hanno tentato il furto. I bambini stavano giocando nel giardino dove si stava svolgendo una festa di compleanno. Alla vista di uno dei due uomini, un paio di bimbi di appena 10 anni, ha subito allertato i genitori che si sono accorti di un'auto scura che si stava allontanando. La stessa, si è saprò dopo, era stata segnalata anche da un metronotte nella zona di Monte San Savino. Una Mercedes scura con targa straniera e così i piccoli hanno praticamente sventato un furto. Il caso è stato segnalato ai carabinieri.